Andare sul fondo, lo leggerete, penso anche dall'abbiale, dell'avionatore friulano del Napoli. Domizio. Chiede il rullo di partire, poi va lui a cross, salta Sosa! E il Pampa a fare impazzire il San Paolo! Sempre lui, ancora lui, 1-0 per il Napoli. Non ci sono parole, non ci sono parole per definire quello che sta facendo Sosa. Veramente Sosa è impazzito ancora una volta, è lui che segna. Gol dedicato a Maradona! Si è messo la maglia che aveva già esibito col Frosinone il 30 aprile dell'anno scorso. Dunque, sempre in questo periodo, aveva giocato con la numero 10 per l'ultima volta al San Paolo. Dedica a Diego e comunque sta meglio. Sosa, che è un grande amico di Maradona, quando è arrivato a Napoli, l'ha sentito telefonicamente, ha pianto anche nel giorno in cui è andossato per l'ultima volta alla 10. Si becca un giallo che però si è cercato perché voleva radicargli il gol a Diego Armando Maradona. Si, e poi è stato furbissimo perché da dietro gli ha dato una leggera, ha appoggiato la mano sul difensore dell'Albino Lefe, il quale non ha potuto intervenire. I fischi per la munizione a Sosa.